Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori di miglioramento della sicurezza ci sono rallentamenti tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e tra Montruppo Fiorentino e Ginestra in direzione Firenze. È chiusa l'uscita di Ginestra Fiorentina provenendo dal Livorno. Si ricorda che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 e sull'autostrada 11. Sempre in FIPILI per altri lavori, chiuse le uscite di Laboria e di Tirrenia, entrambe provenendo da Firenze. Il traffico invece scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!